cari amici del canale youtube robimaster ieri sera 25 ottobre il ministro savona durante un'intervista su sky ha ben chiarito una dichiarazione a lui attribuita quando era stato da vespa dichiarazione che non rappresentava certo il suo pensiero ed in realtà secondo quanto servisce il professore è stata detta dal conduttore bruno vespa di seguito riporto la dichiarazione testuale di savona parola per parola senza correggere nulla il ministro savona ha detto voglio chiarire che l'affermazione dei 400 in riferimento allo spread è un'affermazione di bruno vespa io ho detto che se ci sfugge lo spread così come abbiamo deciso in consiglio dei ministri quando abbiamo approvato la legge noi ad un certo punto non riesamineremo la manovra riesamineremo il contesto entro cui noi ci poniamo perché possono succedere tanti altri eventi quindi non specifico su quello carissimi amici del canale youtube robimaster stiamo cercando di fare informazione pur con i pochi mezzi che abbiamo la vera informazione quindi vi prego di aiutarci a condividere e diffondere i video e sostenere il canale con una donazione perché non avendo ricavi da pubblicità a differenza di altri le donazioni sono l'unica nostra risorsa per continuare il nostro impegno a beneficio di tutti coloro che realmente vogliono il bene delle persone non a parole ma con i fatti un vivo ringraziamento e un abbraccio a tutti voi amici del canale dal vostro robimaster a tutti voi amici del canale dal vostro robimaster